Il 20 settembre tutti a scuola in presenza e trasporti fino all'80%, dal Ministero aspettano i piani regionali entro giovedì. Iscritti e simpatizzanti vogliono appoggiare Amalia Bruni ma Ettore Rosato non vuol saperne e De Magistris raccoglie le firme. Fenailp non ha dubbi dopo un giugno ordinario impennato a luglio e ad agosto è stato un vero e proprio boom. Il premio matita rossa e blu della Fondazione Scopelliti all'ex direttore di Repubblica, il giornalista Mario Calabresi. Più che un sogno, una vera e propria realtà, Messias va al Milan dal Crotone e Compioli rischia di giocarsi il posto con Brahim Diaz. Un minuto dopo le 14 in diretta, benvenuti, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con una breaking news, un'ultima ora. Torna a colpire il Covid purtroppo nelle residenze per anziani della provincia di Cosenza, 49 persone, 13 operatori, 36 ospiti risultano positivi al virus in una struttura sociosanitaria assistenziale con sede a Longobardi. Nessuno ha sviluppato gravi sintomi della malattia, la maggior parte degli ospiti e del personale è stato sottoposto nei mesi scorsi al vaccino anti-Covid. La situazione ovviamente viene monitorata dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza che ha inviato sul posto un pool di sanitari per accertarsi delle reali condizioni degli ospiti e dunque avviare tutte le procedure previste per contenere la possibile diffusione del virus. Intanto a proposito di virus e soprattutto di prospettive, la scuola si riparte in presenza, il trasporto pubblico locale, massimo 80%, siamo nelle condizioni. C'è stata una riunione in regione con l'assessore Savaglio per fare il punto della situazione, ma intanto il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione, evidentemente entro giovedì aspetta i piani di tutte le regioni italiane. Si è svolta a Catanzaro una riunione convocata dall'assessorato regionale all'istruzione in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, utile a raccogliere da parte di tutti gli attori del settore, segnalazioni di problematiche e criticità da sottoporre all'attenzione del Ministero dell'Istruzione. All'incontro hanno partecipato alcuni rappresentanti sindacali del comparto scuola, referenti del terzo settore e per l'ufficio scolastico regionale Vito Primerano e Antonella Iunti. La riunione è stata utile per confrontarsi e stabilire quali siano le emergenze che la scuola calabrese deve risolvere prima del 20 settembre. Abbiamo l'opportunità di riferire direttamente al Ministero dell'Istruzione di cosa abbiamo ancora bisogno, ha affermato l'assessore Savaglio, riconoscendo le tante risorse che sono già state destinate alla scuola. Nei mesi scorsi era stata avviata una ricognizione relativa a spazi e trasporti in collaborazione con l'Unione delle Province e l'Associazione Nazionale dei Comuni. Ancora oggi i problemi sono soprattutto legati ai trasporti perché il ritorno alla scuola in presenza e la necessità di mantenere una capienza fino a un massimo dell'80% dei mezzi pubblici rende necessario un rinforzo della rete. La Regione Calabria ha già raddoppiato le macchine ed è disponibile anche a nuovi interventi ma serve che le scuole comunichino i fabbisogni ai comuni. Intanto il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e i sindacati dei trasporti si sono aggiornati al 20 settembre per confrontarsi sull'efficacia dei sistemi di organizzazione e controllo che le regioni avranno introdotto e che saranno contenute nei piani da presentare al Ministero entro giovedì. Adesso vi porto in Afghanistan perché i genitori degli studenti del liceo classico Telesio di Cosenza hanno risposto all'appello del preside Iaconianni. Un numero cospicuo di essi si è detto disponibile ad accogliere nelle loro famiglie giovani in età scolare per tutto il prossimo anno scolastico. Chiaramente Iaconianni si è detto orgoglioso di confrontarsi con tanta generosità, tanto altruismo, insomma lavorare in questo momento in un contesto dove tante famiglie, altre se ne aggiungeranno magari e sicuramente dice il preside uno stimolo, una speranza per tutti e quindi ha voluto ringraziare questi genitori, i tanti che purtroppo magari per motivi logistici non hanno potuto dare seguito al loro senso di accoglienza. E comunque Iaconianni ha informato la Morgese Di Maio, quindi il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Esteri, dai quali ovviamente adesso si attendono istruzioni operative per come procedere per dar seguito a questo bellissimo segnale che viene dalla nostra regione all'Italia tutta e che diciamo anche con un pizzico di orgoglio è partita proprio dal liceo classico Telesio di Cosenza. Per un futuro si spera migliore per tanti giovani invece al dramma di Simona, ieri sono stati celebrati ufficiati, forse è il caso di dire, i suoi funerali. Una folla composta, silenziosa, le lacrime difficili da trattenere, il sorriso di Simona ancora vivo, presente, per nessuno è facile credere che la sua gioia di vivere sia stata strappata via dalla ferocia di un branco di cani, un incubo piombato su una comunità che con grande commozione si è stretta intorno al dolore profondo e dignitoso della famiglia. Il piazzale davanti all'oratorio dei Salesiani di Soverato si riempie in un attimo, denso di emozioni, in centinaia hanno voluto fare sentire la propria vicinanza a papà Alfio, alla mamma Angela, a Pietro, fratello gemello di Simona. Pagherei tutto l'ora del mondo per farla dormire così e ieri io stando lì accanto e pensando solamente, solamente a cose positive di Simona, a quando correva per casa, a quando le rubava i miei giochi, a quanto le piaceva mangiare, a quanto le piaceva dormire, sempre, sempre, sempre. Dopo pranzo lei, Simson, sempre. Pensando a questa, lei l'ha fatta dormire, ieri sera io l'ho addormita. Le regole imposte dal Covid hanno costretto tante altre persone a stare fuori dai cancelli, a gremire le strade circostanti. Nel giorno dell'ultimo saluto a Simona la città si è fermata, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, i commercianti hanno abbassato le saracinesche. Un lungo corteo accompagna la bara bianca, ci sono gli amici di Simona, portano i cartelli e gli striscioni, preparati per la fiaccolata di lunedì sera. Un lungo applauso saluta l'arrivo del feretro, poi sul soverato piomba un silenzio surreale. La morte di Simona è una finestra aperta sul paradiso, dice Don Alfonso Napolitano. C'è qualche cosa oggi qui in questa comunità, in questo luogo anche se è all'aperto, qualche cosa che nella nostra fede non fa scomparire il dolore, non fa scomparire il pianto, ma contribuisce a dare un senso alla tristezza, all'abbandono, al distacco per aprire i cuori a una nuova speranza. Un nuovo lungo applauso accompagna l'uscita del feretro per l'ultimo viaggio di Simona, salutato dal volo di tanti palloncini bianchi verso il cielo. Allora cambiamo decisamente argomento, veniamo alla politica regionale, praticamente fra un mese votiamo, un poco più, entro venerdì bisognerà presentare le liste, quindi sapremo finalmente chi e quanti saranno i candidati alla presidenza della regione, tre sicuramente ci saranno, Occhiuto, Bruni e De Magistris, noi ci stiamo preparando naturalmente anche per gestire questa campagna elettorale, anzi vi preannuncio, vi anticipo che da martedì prossimo alle 15 partiremo in diretta con il nostro DOC, il programma di approfondimento speciale, lezioni, quindi saremo in diretta alle 3 del pomeriggio, il martedì e il giovedì. Intanto, De Magistris dice che sono orgoglioso dei miei candidati, ma la cosa un po' particolare è quella che riguarda Italia Viva in Calabria, perché i vertici regionali e nazionali non vogliono saperne di dire appoggiamo il centro-sinistra a Malia Bruni, anzi dice no, questo centro-sinistra non ci piace. Dall'altra parte però i coordinatori provinciali di Cosenza, molti iscritti dicono ma insomma perché non ci esprimiamo e la seconda volta che restiamo fra l'altro senza lista e dunque non presentiamo il nostro simbolo alle regionali in Calabria. Non c'è pace per Italia Viva in Calabria, ancora una volta noi coordinatori provinciali di Italia Viva di Cosenza, sulla base di quanto già deliberato dai nostri iscritti, chiediamo ai vertici regionali e nazionali del nostro partito una dichiarazione ufficiale chiara e netta sulla scelta di chi Italia Viva intende sostenere alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Nero su bianco l'hanno messo Anna Maria Brunetti e Antonio Palermo, coordinatori provinciali di Cosenza. Per i due esponenti renziani sarebbe assai grave se per la seconda volta nell'arco di due anni e di due elezioni regionali Italia Viva in Calabria non esprimesse una scelta e non dicesse pubblicamente ai suoi tanti iscritti, militanti, simpatizzanti ed elettori quale coalizione e candidato presidente sostenere. Il 3 e 4 ottobre non ci sarà il simbolo e la lista di Italia Viva sulle schede elettorale della competizione regionale. Sulla questione è intervenuto il presidente nazionale Ettore Rosato per il quale occorre privilegiare sempre alleanze per il buon governo riformiste e riformatrici come a Milano con Beppe Sala o a Roma con Carlo Calenda. In Calabria invece, dove non è stato possibile chiudere un'alleanza con il centro-sinistra che ha scelto un candidato senza interpellarci, resteremo alla finestra ad assistere a un suicidio politico costruito con straordinaria precisione. Dunque Italia più che viva sembra voler vegetare. Luigi De Magistris dal canto suo raccoglie le firme a sostegno delle liste. Si candidano dai territori più impervi e complessi dove tuttora è forte e pressante il peso dell'andrangheta, dice Rosarno e Gioia Tauro, tra i tanti volti puliti e competenti che sono con noi. C'è Angelo Carchidi, 33 anni, architetto e promotore sociale e culturale, tra i più giovani animatori della Casa del Popolo di Rosarno che porta il nome di Giuseppe Valariotti, dirigente comunista ucciso dai clan l'11 giugno del 1980. De Magistris si è detto orgoglioso di condividere questa lotta per i diritti e per la liberazione della Calabria insieme alle forze e ai volti migliori di un popolo straordinario che ha sete di giustizia. Una notizia brillante il caso di dire, insomma è boom di turismo e di turismi e di turisti in Calabria in questo mese di agosto, era cominciato insomma abbastanza nell'ordinario giugno, impennata a luglio e quindi poi insomma questo agosto meraviglioso. Speriamo che a questo punto si aggiunga anche settembre. Il bilancio della stagione estiva in Calabria è complessivamente molto positivo. Il mese di giugno è iniziato un po' sottotono, luglio ha fatto registrare un buon numero di presenze e ad agosto c'è stato un vero e proprio boom di turisti con la maggior parte dei weekend sold out. A raffermarlo è Roberto Incoronato, presidente provinciale della Federazione Nazionale Autonome Imprenditori e Liberi Professionisti di Vibo Valencia. I numeri registrati sono meritano non solo della qualità e quantità dei servizi offerti, ma anche della comprovata passione e professionalità da parte di tutti gli operatori del settore, tanto che il mare pulito dei prodotti enogastronomici della Calabria hanno convinto molte famiglie italiane a trascorrere almeno due settimane di vacanze nelle nostre strutture, un buon numero dei quali, dimostrando di aver apprezzato molto a questa nuova scoperta, ha già confermato il soggiorno per l'estate 2022. Non possiamo affermare che la pandemia da Covid-19 sia un lontano ricordo, conclude Incoronato, i numeri non sono quelli del 2019, ma fanno ben sperare di poter tornare alla normalità già a partire dal prossimo anno. Sarebbe una vera e propria manna per la nostra economia e soprattutto per l'occupazione giovanile. E a Proto di Turismo c'è soprattutto una grande prospettiva con fondi europei importanti, 60 milioni per costruire la cosiddetta, anzi meglio ancora, antica Crotol, che poi non è altro che 5 interventi importanti per la riqualificazione dell'archeologia, della cultura e quindi le radici di questo territorio. Ieri c'è stato Nino Spirli che ha fatto il punto sulla rimodulazione di questo progetto. Bisognava chiudere la partita, altrimenti si rischiava di perdere i fondi. Così Nino Spirli, presidente facente funzioni della regione sul progetto antica Crotol, nel corso di un incontro al capoluogo pitagorico, con lui anche Cataldo Calabretta, vicecommissario regionale della Lega, Spirli si è soffermato sugli interventi previsti nel progetto. ricordiamo che sul piatto ci sono finanziamenti per oltre 60 milioni, molti dei quali sono stati rimodulati. Sono 5 le aree di intervento che interesseranno alcuni quartieri della città e poi Capocolonna, il Castello Carlo V. Ora, insomma, si parte. Questa volta Antica Crotol è partito, è partito realmente, è partito con una rimodulazione che abbiamo concordato sia con il Comune che con il MIC, con la Prefettura. C'è un progetto che oggi è a misura di Crotone e a misura soprattutto di Croton, perché questa è la cosa più importante. 62 milioni andranno tutti dritti a finanziare altrettanti cantieri che serviranno alla città, alla regione, all'Italia per mostrare una cosa, un tesoro che in realtà non merita di essere sepolto. La rimodulazione è venuta fuori dalla decisione unanime del tavolo direttivo e dell'approvazione degli interventi proposti dal Comune di Crotone e dal segretariato regionale per la Calabria, del MIC, il Ministero della Cultura. Finalmente c'è stato qualcuno che ci ha creduto, che ci ha creduto nel Palazzo, ma qualcuno che ci ha creduto e io come al solito non riesco ad essere partigiano, riesco ad essere di parte. Io voglio ringraziare veramente Enzo Voce, la sua amministrazione, l'attuale sottosegretario e ministro alla cultura, il dottore Patamia che è il responsabile del MIC per la Calabria, è stato un lavoro certosino fatto insieme con tutti i dirigenti del Dipartimento dei beni culturali della Calabria, ci ha creduto dal primo giorno. C'è un altro sbarco di migranti, il solito tratto di costa della fascia ionica regina, 80 questa volta, varie nazionalità, sono arrivati prima dell'alba al porto delle Grazie di Roccella Ionica, prima di essere soccorsi ad oltre 50 mila di distanza dalla costa, dai militari della Guardia Costiera di Roccella, i migranti si trovavano a bordo della piccola barca a vela in balia del mare e fra l'altro mare grosso. Dopo l'abordaggio, i migranti, tra cui figurano donne e bambini ancora in tenera età, sono stati trasbordati su una unità navale della Guardia Costiera e quindi condotti in sicurezza fin dentro la struttura portuale roccellese. Ancora nel Reggino, questa volta arriva lo stretto, premio matita rossa e blu a Mario Calabresi. Mario Calabresi, giornalista e scrittore, già direttore dei quotidiani Repubblica e la stampa ha ricevuto il premio giornalistico nazionale La Matita Rossa e Blu, organizzato dalla Fondazione Italo Falcomatà. Inizia nel migliore dei modi il ventennale della scomparsa di Falcomatà con la prima di una serie di iniziative che la Fondazione, a lui intitolata, ha inteso organizzare nel corso di quest'anno per commemorare la figura del compianto sindaco, artefice tra l'altro, della Primavera di Reggio. L'undicesima edizione del premio La Matita Rossa e Blu, ospitata nel circolo del Bridge, ha visto un'ampia partecipazione. La manifestazione ha fatto da cornice alla presentazione dell'ultimo libro di Calabresi, Quello che non ti dicono, in cui il giornalista ripercorre attraverso un lavoro di inchiesta e di approfondimento una vicenda dimenticata degli anni 70, vale a dire il rapimento e la morte di Carlo Saronio. Conoscere per esempio la storia degli anni 70 e di quello che è stato il terrorismo che ha insanguinato l'Italia è utile per esempio per far capire ai giovani che la violenza non è mai motore di cambiamento, ma la violenza porta solo distruzione, morte e mai miglioramenti sociali. Presenti alla serata la moglie di Falcomatà, la professoressa Rosa Neto e il figlio Giuseppe, attuale sindaco della città dello Stretto. Stasera tra le emozioni di rivedere gli amici e tra questo grande protagonista della serata che è Mario Calabresi, l'emozione è ancora più forte. Grazie al nome della mia famiglia, grazie al nome della fondazione, grazie a chi ha le istituzioni presenti, grazie a chi mi ha aiutato a realizzare questa serata e grazie al protagonista. Tanti giornalisti presenti, tra questi Anna Mallamo e poi Giuseppe Smorto, vice direttore di Repubblica. C'è bisogno su certi avvenimenti di fissare la verità dentro un libro, questo è il lavoro che ha fatto Mario Calabresi. Detto questo sono anche felice che lui sia venuto a Reggio Calabria perché è un personaggio di valore internazionale e averlo portato qui, anche al museo, insomma avergli fatto vedere la faccia più bella della nostra città, insomma rende questa serata molto importante. Oggi è stato presentato anche il nuovo programma di sviluppo rurale, sono i fondi europei messi a disposizione per la forestazione ma soprattutto per l'agricoltura. Presentati i nuovi bandi del PSR Calabria della prossima programmazione delle risorse FEASR in collaborazione tra la Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria e il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria con in testa l'assessore Arramo Gianluca Gallo. Un'occasione per iniziare a conoscere le prossime opportunità di crescita per l'agricoltura e la forestazione calabrese, due settori strategici per la creazione di un modello di sviluppo regionale all'insegna della sostenibilità, del buon cibo, della valorizzazione del patrimonio naturalistico e della lotta al cambiamento climatico. Proprio in questi giorni le emergenze incendi e la crisi idrica che stanno colpendo gran parte della Calabria ci hanno fatto comprendere una volta di più quanto sia importante programmare, investire, gestire, controllare e permettere in sicurezza i nostri territori e garantire loro uno sviluppo eco e rispettoso dell'ambiente. E adesso a chiudere lo sport, questa è una di quelle favole che racconteremo anche fra chissà quanti anni, decenni magari, quella di Messias, fortissimo, una tecnica straordinaria, l'abbiamo ammirato con la maglia del Crotone, adesso pensate un po', arriva addirittura ad indossare la maglia del Milan e non è detto insomma che magari non freghi il posto a Brahim Dias come si dice in questi casi come sottopunta, insomma un po' più indietro rispetto a Giroud o perché no anche ad Ibraimovic. Il cielo con un dito Junior Messias passa al Milan, corona il sogno che aveva fin da bambino e che all'età di 25 anni aveva messo nel cassetto, quando aveva capito che per lui il calcio sarebbe stato solo le partite Wisp al sabato sera con i suoi amici peruviani, cileni e cubani, fino a quando Ezio Rossi lo scopre, lo fa giocare in serie D, poi il Gozzano in C e infine il Crotone che lo lancia in serie B e in serie A. E ieri notte il presidente Brenna gli ha regalato la possibilità di poter giocare con la squadra italiana più seguita al mondo, il Milan che fu di Berlusconi che lo fece grande nel 90 e nei primi anni del 2000, un'operazione un po' contorta che si è conclusa in piena notte. Junior Messias passa al Milan in prestito con diritto di riscatto per una cifra che si avvicina ai 2 milioni di euro e appunto un riscatto tra i 5 e i 6 milioni. In parole povere il Crotone incassa la prima tranche, poi in base all'andamento della stagione il Milan deciderà se tenerlo o meno, se deciderà di mollarlo tornerà al Crotone la prossima stagione con la possibilità di una nuova cessione oppure restare in Calabria se il rosso-blu torneranno in serie A. Ma un fatto è certo, Messias rimarrà nel massimo campionato italiano ma avrà la possibilità di giocare da qui a poco in Champions League contro Porto, Atletico Madrid e Liverpool alle spalle di gente come Teo Hernandez, Giroud e Ibrahimovic. E probabilmente questa è la cosa più incredibile che gli è capitata all'età di 30 anni, giocare al Milan e in Champions, qualcosa che va al di là del puro sogno e che probabilmente ancora qualcuno non gli ha dato nemmeno una parola o un significato. Adesso le previsioni del tempo grazie a trebimeteo.com Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Che nel complesso, guardate, sarà bella in gran parte Italia perché la pressione atmosferica resta relativamente alta sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. È presente un'area di bassa pressione sulla penisola iberica, un'altra sull'est Europa, ma da noi possiamo stare tranquilli. Anche come nuvolistà, infatti, ben poco da segnalare, si avvicina qualche nuvole alle nostre isole maggiori dalle Baleari e poi degli annuvolamenti lambiscono, specie al mattino, il versante adriatico. Come precipitazioni, proprio appunto al mattino sul medio e basso adriatico, vi segnalo la possibilità di qualche breve piovasco, ma poi il rapido allontanamento. Quindi, in definitiva, ci attendo un mercoledì nel complesso bello, con ampie zone di sereno da nord a sud, con questa varia vita a chi interessa però le regioni del medio e basso adriatico, ripeto, soprattutto al mattino, poi situazione in miglioramento. Temperature nel pomeriggio molto miti, arriviamo a toccare ancora i 30 gradi, di notte a primo mattino però valori frizzantini al centro nord. Per sapere nel dettaglio poi cosa capiterà anche nei giorni successivi, scaricate l'app di Trebi Meteo. Allora, mancano pochi secondi per le 14.24, ci fermiamo, non andate via, le emozioni sono sempre in diretta sul canale 18 di Esperia, fra poco Smart Sport con Luigi Saporito, noi invece ci vediamo stasera alle 20.30 a nuova edizione del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti.